Ciao, mitici! Ho recentemente comprato lo Shure SM7DB, che è il nuovo parente ricco del più famoso microfono Shure SM7B, che è il microfono più utilizzato dai podcaster che hanno un budget illimitato, ma che ha un problema. Per essere usato necessita praticamente quasi sempre di un preamplificatore, di un mic booster. Essendo il microfono un top di gamma, spesso ci si abbina un ottimo mic booster, ad esempio questo che viene 168 euro, quindi si arriva facilmente a un totale di 557 euro. Mentre il modello che ho comprato, che ha già il mic booster incorporato, mentre la versione che ho comprato costa solamente, si fa per dire, 525 euro, quindi anche molto meno, con una serie di vantaggi. Innanzitutto risparmiamo un cavo, che sono almeno 10 euro. Poi la configurazione risulterà sicuramente più pulita, più veloce, più facile. Non avremo la possibilità di sbagliare comprando un mic booster che introduce una qualche forma di ronzio. Questo è incorporato e quindi siamo certi che è azzeccato e perfetto per il nostro microfono. Altra informazione che voglio darti è che questa registrazione la sto facendo proprio utilizzando SM7DB, che è il mio nuovo acquisto, e ce l'ho vicino alla mia bocca, leggermente sulla sinistra. Non davanti per evitare che le PLB portino aria al microfono. Ora, per utilizzare questo microfono hai anche bisogno di una scheda audio, che io non avevo, diciamo, a disposizione qua per il mio computer. Quindi mi sono lasciato consigliare da ChatGPT, che mi ha detto che una buona combinazione è usando una Focusrite Charlotte 2i2 di quarta generazione, che è l'ultima. E in questo video vi parlerò anche di questa scheda. Io l'ho provata e veramente mi sembra molto completa, con molte funzioni davvero facili da usare, intuitivi e utili. In ogni caso, essendo questo un microfono diciamo top di gamma, la cifra che bisogna spendere per una scheda audio, in maniera tale che non ci sia uno sbilanciamento, insomma, con il microfono troppo bello e una scheda troppo brutta, è di comunque spendere una cifra tipo questa. Ci vogliono più o meno 200 euro per avere una scheda audio che abbia delle performance a livello del microfono. Bene, ora ti voglio parlare brevemente di questo amplificatore Scarlett 2i2 di questa scheda audio e per quale motivo dovresti preferirla ad altre. Innanzitutto le recensioni su Amazon sono tantissime buone, anche i video di recensione dove si vede proprio abbinare questa scheda a questo microfono sono tantissimi e tra le funzioni che me l'hanno senz'altro fatta preferire ad altre c'è questa nuova funzione con il tasto auto, molto pratica, utile e facile da usare. Bisogna nelle schede di acquisizione regolare quanto è il guadagno e bisogna stare attenti perché ci potrebbero essere dei picchi dove andiamo in distorsione, dove il segnale diventa rosso e quindi perdiamo della qualità audio. In questo caso premendo il pulsante auto si parla per 10 secondi, per quei 10 secondi il microfono non funziona ma ascolta diciamo la nostra voce, parliamo con il nostro tono normale e capisce in modo automatico come regolarsi. L'onda in automatico sarà ben udibile quando riandiamo a ascoltare ma di solito molto lontana dagli eventuali picchi. Inoltre abbiamo anche il pulsante safe che praticamente ci salva dai picchi. In automatico c'è una limitazione se noi per qualche motivo facciamo un urlo improvviso o strelliamo un po' più forte perché siamo presi dall'euforia di qualche commento che magari stiamo facendo in diretta e c'è una compressione nei momenti più alti in maniera tale che non andremo mai a creare dei momenti in cui l'audio va in rosso. Un'altra caratteristica invece la vediamo sulla destra dove c'è il pulsante direct. Premendo questo noi abbiamo la possibilità di ascoltarci in cuffia direttamente senza passare attraverso il computer. In questo modo eviteremo di ascoltarci con del ritardo perché inevitabilmente si ha sempre un qualche ritardo se l'audio passa all'interno della scheda audio del computer. In questo caso l'audio viene direttamente sparato in cuffia. Abbiamo la possibilità di regolare sia il guadagno della cuffia che il guadagno dell'uscita. E poi volendo vedere gli altri pulsanti abbiamo il pulsante air che io non uso che empatizza un pochettino gli acuti. È una sorta di un equalizzatore che crea una specie di simulazione di altri amplificatori che possiede questa Scarlett. Comunque la mia voce non mi piace enfatizzarla sugli acuti ma immagino che molti altri magari cantanti possono apprezzare questa possibilità. Poi vediamo il tasto 48 volt per mettere o togliere l'alimentazione phantom che in questo microfono ce n'è bisogno dei 48 volt. Select fa in modo tale che puoi scegliere o il primo canale voi davanti vedete che ci sono gli attacchi per gli strumenti. Gli attacchi dei microfoni sono sul retro. O il primo microfono con relativo strumento o il secondo o tutte e due insieme. Questo si fa premendo il tasto Select. Poi c'è il tasto Inst che è un qualcosa che serve per chi inserisce gli strumenti. Una cosa tipo per adattare l'impedenza che nel mio caso non ho approfondito perché io lo utilizzerò solo per la mia voce in quanto non suono nessuno strumento. Vi faccio vedere anche il retro. vedete che ci sono due USB di tipo C. Una è solo per l'alimentazione e un'altra è invece per far passare i dati e quindi collegarla al computer. C'è anche un bellissimo software che tutti i tasti che noi comandiamo fisicamente possiamo anche comandarli utilizzando il software. Vedete dietro ci sono anche i due ingressi microfonici XLR e un'uscita se volete che l'audio delle casse venga preso direttamente da qua con il canale destro e sinistro. Se cliccate nel link che vi metterò in descrizione andate in questa ditta che vende queste schede audio dove quella che ho preso io è la 2i2 dove ci sono due microfoni due ingressi microfonici due ingressi per gli strumenti ma c'è anche la possibilità di avere quattro microfoni ad esempio se fate dei podcast dove saranno quattro ospiti e quattro quattro ingressi per gli strumenti magari se siete un complesso dove ci sono più persone che suonano fino ad avere anche delle soluzioni ancora più complicate. Per quello che mi riguarda io penso di aver preso la scelta giusta perché quella che viene chiamata solo ha un costo praticamente di 150 euro quindi si risparmia un forse un 50 60 euro rispetto alla versione dove si possono utilizzare due microfoni qui la vediamo dal retro e vedete che praticamente è un po più semplice perché l'alimentazione c'è solo un usb e non due però ha meno potenza e ha un solo microfono un solo strumento a me chiaramente serve al momento semplicemente un solo microfono e quindi avrei potuto scegliere anche questa ma per la piccola differenza di prezzo ho preferito avere un qualcosa che forse in futuro se ne ho necessità non ho bisogno di fare nessun tipo di upgrade tutto sommato la differenza di prezzo e la differenza di ingombro era poca e quindi questa è stata la mia scelta però esiste anche la possibilità di avere un'ottima qualità avendo un scheda audio ancora un po più piccola e più adatta se uno è sicuro che non gli serviranno mai due microfoni bene mi dici vi metto il link in descrizione del microfono e della scheda audio che ho acquistato e ci vediamo al prossimo video ciao mitici